durante la rivoluzione di saturno del periodo della terra il corpo denso acquisì la facoltà di sviluppare un cervello che potesse contenere il germe del corpo mentale che più tardi gli sarebbe stato dato ottenne l'impulso che gli permise di costruire la parte frontale del cervello il sistema nervoso e il cervello sono la più alta espressione del corpo del desiderio essi evocano le immagini del mondo esterno ma per la creazione di immagini mentali è il sangue che apporta il materiale necessario per questo motivo quando il pensiero è attivo il sangue affluisce al cervello nell'uomo il cervello ha il legame che congiunge lo spirito col mondo esterno senza quest'organo e lì non potrebbe avere alcuna conoscenza gli organi di senso sono solo dei messaggeri che trasmettono al cervello le impressioni ricevute dall'esterno mentre il cervello le interpreta e le coordina ed è stato lo spirito con l'aiuto degli angeli a sviluppare il cervello per accumulare tutte le cognizioni del mondo fisico l'ego quando entrò in possesso dei suoi veicoli dovette servirsi di parte della sua forza creatrice per potersi costruire il cervello e la laringe gli spiriti luciferici stimolarono l'attività mentale per mezzo della parte di forza sessuale diretta verso l'alto proprio per il lavoro del cervello in tal modo le entità in fase di evoluzione presero coscienza grazie al cervello dei fenomeni del mondo esterno chiaramente questo avvenne a scapito della metà del loro potere creativo i fisiologi hanno notato che alcune parti del cervello vengono adibite attività mentali particolare la frenologia si è spinta oltre nello studio di questa branca della scienza d'altra parte è noto che il pensiero utilizza i tessuti nervosi logorandoli il recupero di questo logorio avviene nel cervello come nelle altre parti del corpo tramite il sangue per mezzo del sangue quando a seguito della trasformazione del cuore in muscolo volontario la circolazione del sangue passerà sotto il totale controllo dello spirito vitale unificatore lo spirito avrà il potere di non far giungere il sangue in quelle parti del cervello dove vengono elaborate le intenzioni egoistiche quindi il risultato sarà che questi particolari centri del pensiero gradatamente si atrofizzeranno la conoscenza mentale ottenuta per mezzo del cervello con l'egoismo che la accompagna è stata acquisita dall'uomo a scapito del potere di creare da solo un altro essere come abbiamo visto nel video precedente ed è a prezzo della sofferenza e della morte che egli ha ottenuto il libero arbitrio ma quando avrà appreso a servirsi dell'intelligenza per il bene dell'umanità otterrà un bene spirituale che potrà ripercuotersi sulla sua esistenza inoltre sarà guidato da una conoscenza innata facoltà assai superiore alla consapevolezza fornita dal cervello come questa supera quella dell'animale meno evoluto il cervello non è altro che un mezzo indiretto per acquisire la conoscenza in futuro esso sarà sostituito dalla facoltà di entrare a contatto diretto con la saggezza della natura che l'uomo sarà in grado di utilizzare direttamente senza una collaborazione esterna per creare nuovi corpi durante il periodo della luna fu necessario ricostruire il corpo denso per renderlo idoneo ad essere permeato dal corpo del desiderio e sviluppare un sistema nervoso dei muscoli le cartilagini ed anche uno scheletro rudimentale questo compito fu assolto durante la rivoluzione di saturno del periodo della luna come abbiamo già detto la ricostruzione del corpo denso che ebbe luogo durante la rivoluzione di saturno del periodo della terra ha segnato l'inizio della suddivisione del sistema nervoso in sistema volontario e sistema autonomo quest'ultimo è il solo che si sia sviluppato durante il periodo della luna il sistema nervoso volontario che da una semplice che da semplice automa che reagiva sotto lo stimolo di impulsi provenienti dall'esterno ha trasformato il corpo fisico in uno strumento dotato di facoltà straordinarie di adattamento capace di essere guidato e comandato dall'interno cioè dall'ego ebbene il sistema nervoso volontario non è stato aggiunto al corpo fisico prima del periodo della terra cioè quello che noi stiamo chiaramente attraversando all'inizio dell'epoca lemuriana quando sole terra e luna si separarono i corpi del desiderio della parte più progredita dell'umanità in fase di sviluppo si separarono in una parte superiore ed una inferiore la stessa cosa avvenne nel primo periodo dell'epoca trantidea questa parte superiore del corpo di desiderio diventò una specie di anima animale fu proprio essa a costruire il sistema nervoso cerebro spinale e i muscoli volontari e per mezzo di essi quindi a comandare tutta la parte inferiore del triplice corpo dell'uomo fino a quando gli venne dato l'intelletto come te d'union una parte del sistema muscolare involontario invece è sotto il controllo del sistema nervoso simpatico lo spirito umano risiede in primo luogo nella ghiandola pineale abbiamo visto secondariamente nel cervello e nel sistema nervoso cerebro spinale che comanda i muscoli volontari al prossimo video con il sangue